buongiorno in questa video lezione parleremo della grecia arcaica allora partiamo dalla guerra di troia ricordate sicuramente la figura di achille che l'eroe che è stato reso immortale nell'iliade che è il poema epico in cui omero narra le gesta degli eroi della guerra di troia appunto ecco troia era una città fiorente nell'asia minore che l'odierna turchia un'asia minore che aveva a che fare con le città degli achei e che fu conquistata verso la fine del tredicesimo secolo avanti cristo appunto dagli achei dopo il trionfo su troia in grecia comincia un periodo di declino appunto il cosiddetto medioevo ellenico dopo il quale però avverrà una ripresa delle attività artigianali commerciali una ripresa della cultura che culmina poi nel nell'ottavo secolo con la nascita delle polis appunto le città stato con questa in quest'epoca inizia la cosiddetta età arcaica ottavo sesto secolo avanti cristo è un'epoca sicuramente di grande crescita economica e sociale le due più importanti città stato sono sparta e atene sparta ci sarà sempre un regime oligarchico autoritario mentre invece ad atene si svilupperà la democrazia nelle polis si sviluppano concetti e idee nuovi come per esempio il concetto di stato il concetto di cittadino e anche il concetto di diritto che poi sarà sviluppato ulteriormente dai romani ma lo vedremo più avanti inoltre nelle polis in questo nuovo contesto socio politico e culturale a origine e si sviluppa anche una prima significativa consapevole riflessioni sull'educazione all'inizio dell'età arcaica cioè tra il nono l'ottavo secolo avanti cristo l'aristocrazia greca ha bisogno di rispondere a diversi a diversi problemi a diverse difficoltà che si pongono davanti a lei allora nella nuova situazione economica sociale politica allo sviluppo economico corrisponde anche il declino delle vecchie comunità agricole quindi la popolazione va a concentrarsi nelle città e di conseguenza si formano classi di artigiani commercianti che hanno nuove esigenze cambia la società si trasforma dal punto di vista sociale proprio questi cambiamenti da un lato determinano degli elementi di crisi ma allo stesso tempo determinano anche delle evoluzioni che hanno degli aspetti positivi in ogni caso gli aristocratici hanno bisogno di proteggere la propria identità sociale e fanno dell'educazione uno strumento di difesa dei valori e dei principi etici che li distinguevano i valori nei quali l'aristocrazia si identifica sono quelli dell'antica civiltà micenea che sono descritti nell'epica omerica cioè nell'iliade e nell'odissea allora l'iliade è la narrazione della guerra di troia che è avvenuta perché gli acchei volevano conquistare la città di troia mentre l'odissea è la narrazione dei lunghi viaggi compiuti dall'eroe ulisse al termine della guerra per nel tentativo di tornare a casa alla sua petrosa itaga e poi le difficoltà nel momento in cui rientra nella sua isola perché a quel punto era stata occupata dai proci che si erano insediati nella sua reggia e stavano insidiavano il suo potere e la sua sposa bene questi testi queste narrazioni sono state tramandate oralmente per moltissimi anni centinaia di anni e sono state messe per iscritto solamente intorno all'ottavo secolo avanti cristo in questi in questi testi sono custoditi appunto quei valori su cui gli aristocratici fondarono la propria condotta di vita cioè un insieme di regole basate sul modello delle straordinarie gesta straordinarie gesta degli antichi eroi allora quali sono queste regole fondamentalmente sono ci sono tre importanti virtù la rete la calo caga e tia e la sofrosiune vediamoli una per uno vediamo le una per una allora a rete e significa alla lettera virtù e consiste nella capacità della persona di realizzare al meglio la propria natura capacità di realizzarsi di realizzare la propria natura e coincide nei poemi omerici con la prestanza fisica il coraggio il valore in battaglia pensate alla figura di achille poi la calo caga e tia è l'ideale di perfezione umana che consiste nell'equilibrio di bellezza e bontà deriva dal greco calos cai agathos calos vuol dire bello agathos vuol dire buono cai è la congiunzione e quindi ciò che è bello è anche buono calos cai agathos bello e buono e quindi bellezza e bontà coincidono e l'ideale della calo calo caga tia consiste nella compresenza di qualità fisiche e morali possiamo parlare di corpo e spirito che coincidono l'ultima delle virtù presentate è la soffrosione che significa capacità di comportarsi con saggezza e la prudenza saggezza diciamo si può spiegare con il dominio di sé la capacità di controllarsi di autocontrollo la capacità di riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni prima di compierle ecco questi tre importanti valori divennero i principi etici per gli aristocratici greci e cioè divennero quegli ideali da mettere in pratica per dare senso alla propria esistenza quindi essendo così importanti erano anche le regole che dovevano essere trasmesse alle nuove generazioni attraverso l'educazione parliamo ora nello specifico della figura di achille allora achille è l'eroe che più di tutti incarna la rete aristocratica achille è un guerriero greco di natura semidivina in realtà era figlio della dea tetti e di un umano peleo per cui per cui sarebbe stato mortale se non se non fosse stato immerso nel fiume sacro dalla madre però tenuto per un tallone quindi l'unica parte del corpo vulnerabile era rimasto il tallone e comunque la sua fama di grande guerriero terrorizzava gli avversari achille ecco perché rappresenta bene la rete aristocratica cerca continuamente lo scontro la competizione si mette in competizione con l'avversario diventare il più grande il migliore tra tutti i combattenti diventa per lui una una ragione dell'esistenza uno scopo dell'esistenza e anche il fatto di sacrificarsi morire in battaglia per la gloria diventava proprio uno scopo dell'esistenza la sua intenzione di essere sempre il primo essere così competitivo non è solamente un desiderio di affermazione personale è un impegno che lo porta a cercare di raggiungere il punto più alto che un uomo possa toccare nella vita rendere se stesso in qualche modo eterno ma appunto raggiungere il massimo di realizzazione della natura umana mediante appunto il coraggio il senso dell'onore la bellezza in un corpo vigoroso e atletico che non è solamente una bellezza fine a se stessa ma è proprio una bellezza che rende veramente umano l'umano questa forza presente nel corpo ma presente anche in questo animo indomito sempre pronta alla battaglia si intreccia poi con delle emozioni profondamente umane che sono descritte appunto nell'iliade dei dolori sconfinati dovuti alla alla perdita di una persona cara oppure a una sconfitta in battaglia ecco sono descritti episodi di questo genere come profonde ferite nell'onore che devono essere rimarginate con la vendetta devono essere fatte pagare lavate con il sangue queste ferite ricevute c'è una una etica retributiva in un certo senso nel nel rapporto con l'altro ecco per esempio è particolarmente suggestivo nel particolarmente suggestiva nella nella della narrazione del duello tra achille ed ettore 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 è il figlio di priamo uno dei figli di priamo che ne aveva 50 primo era il re di troia ettore era un eroe valoroso e quindi il duello tra achille e ettore è particolarmente drammatico l'unica colpa di ettore era quella di aver ucciso patroclo il il caro amico di achille che però si era mascherato da achille per essere per per combattere contro ettore e comunque questo questo combattimento duello è un esempio molto carico di emotività di a rete parliamo ora delle figure dei maestri allora nell'iliade ci sono due sono presentati due grandi educatori di achille il centauro chirone e fenice il centauro chirone insegna ad achille le cose fondamentali per la vita pratica diciamo la medicina le regole della caccia della guerra invece fenice gli insegna il valore della parola che serve per elevarsi non sono sufficienti le doti fisiche è necessario anche saper utilizzare la parola nell'odissea la figura di saggio maestro è presentata attraverso il personaggio di mentore ulisse quando il figlio telemaco era un bambino lo affida a un precettore come era l'abitudine delle famiglie aristocratiche a quel tempo un precettore che si occupa di aiutare il bambino a diventare un adulto attenendosi ai valori e alle virtù che devono che permettono di realizzare la propria natura mentore è una parola che poi è stata rimasta nella lingua italiana mentore significa quell'educatore che guida e che consiglia in modo saggio telemaco inoltre quando la dea atena assume sembianze umane per guidare telemaco e accompagnarlo nella ricerca del padre ecco atena in questa occasione assume le sembianze di mentore e accompagna il giovane telemaco insegnandogli come comportarsi in un contesto sociale e quindi regole di vita sociale e insegnandogli l'arte dell'eloquenza cioè suggerendogli le modalità per tenere un discorso in un modo opportuno la formazione all'eccellenza nell'onore è un percorso che va di pari passo con l'affermazione sociale cioè per essere un eroico guerriero non è sufficiente saper maneggiare le armi ed essere competente nelle nelle discipline sportive è necessario anche eccellere nell'onore nella virtù la perfezione consiste nel nell'essere superiore agli altri anche se nella competizione continua in una continua competizione che non è solamente competizione fisica sportiva agonistica ma è una competizione anche nell'essere migliori dal punto di vista dei valori della virtù e dell'onore in particolare e anche se questa questo il giudizio su questa eccellenza non deve essere dato da da se stessi deve essere affidato agli altri quindi l'uomo che d'onore che vuole eccellere nell'onore deve imparare che appunto la perfezione è essere superiore agli altri ma il giudizio sul proprio valore deve essere comunque affidato agli altri e non a se stesso allora abbiamo visto che omero descrive i valori della società aristocratica che teme di perdere il il suo prestigio a causa dei cambiamenti sociali in corso e quindi ha bisogno di rinforzare i valori che la caratterizzano ecco un altro autore di cui ci occupiamo adesso invece è esiodo e esiodo presenta nelle sue opere i valori dei piccoli e medi proprietari terrieri della grecia arcaica esiodo è vissuto tra il tra l'ottavo e il settimo secolo avanti cristo e oltre a svolgere la professione di cantore itinerante no quelli che si che si spostavano da un corte all'altra per cantare componimenti poetici o propri o di altri quelli appresi insomma nella cultura orale eccetera quindi questa professione di aedo aedo oltre a fare l'aedo lavorava anche in campagna nel terreno del padre assieme a suo fratello perse in seguito poi ebbe una lite con il fratello perse per motivi di eredità e questo questa lite gli diede così l'espediente per scrivere il famoso poema le opere e i giorni che ha come sfondo la vita quotidiana di campagna con il lavoro quotidiano eccetera ma un chiarissimo intento pedagogico perché è evidente che è un testo scritto da uno che vuole presentarsi come maestro di verità e che non si limita a raccontare vuole insegnare vuole che quello che lui ha cantato sia utile a chi lo ascolta sì il poema è dedicato al fratello quindi ci sono indicazioni di buon comportamento eccetera rivolte al fratello ma chiaramente le sue indicazioni e suggerimenti sono rivolti a tutti a tutti gli esseri umani sono raccomandazioni che hanno a che fare con evitare la stoltezza la sregolatezza la corruzione la pigrizia eccetera tutte le narrazioni insomma hanno la funzione di esaltare l'uomo laborioso che è anche uomo giusto perché il lavoro e soltanto il lavoro permette all'uomo di essere di vivere con dignità e in armonia con gli dèi allora vediamo nello specifico le tematiche trattate dal testo opere e giorni allora da una parte abbiamo l'elogio del lavoro l'esaltazione del lavoro e di pari passo ovviamente va il disprezzo per l'ozio quindi come prima tematica c'è l'esaltazione del lavoro e il disprezzo per l'ozio contrapposti no poi allo stesso modo abbiamo una esaltazione del valore dell'importanza della giustizia e quindi un disprezzo per chi si comporta in modo ingiusto quindi un altro tema fondamentale è appunto l'elogio della giustizia e il disprezzo per l'ingiustizia oltre a queste tematiche importanti a livello di valori sono presenti nel testo anche indicazioni pratiche su varie tematiche le attività agricole la navigazione i commerci i matrimoni i rapporti con gli amici appunto con la funzione di essere indicazioni pratiche ovviamente sempre rivolte al fratello ma poi nell'intenzione profonda rivolte a tutta l'umanità allora vedete con queste tematiche così diverse da quelle di Omero abbiamo con esiodo un passaggio a una a una fase differente della società della storia il prestigio sociale non deriva più dalla 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 gloria in battaglia come sosteneva Omero come presentava come come era evidente nel mondo presentato da Omero nel mondo presentato da esiodo il prestigio sociale scaturisce dal benessere economico che è ottenuto col lavoro onesto ecco quindi c'è una trasformazione quindi dal valore importante della capacità bellica della della del guerriero si passa al valore dell'uomo che è un grande lavoratore e che quindi fa fiorire la sua campagna ecco quindi allora a questo punto io vi chiederei di osservare la mappa che passa che compare sul vostro video in questo momento osservare questa mappa e anzi vi suggerisco di ricopiarla sul quaderno e la metterò poi anche in allegato in su classroom e poi vi chiederei di scrivere direi per la prossima oggi ma oggi ma oggi è martedì quindi io direi per 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 Grazie a tutti